Buongiorno a tutti. Benvenuti al pre-partita di Bologna-Cesena, gara valevole per i 32esimi di Coppa Italia Frecciarossa, in programma domani allo stadio dell'area di Bologna, con inizio alle ore 21.15. Siamo con il tecnico Domenico Toscano, partiamo con le domande, partiamo con il resto del Carlino. Buongiorno, buongiorno mister. Allora, con l'Entella avete fatto un bel regalo ai tifosi, no? Adesso bisogna finire il lavoro, bisogna andare a vincere Bologna. No, siamo contenti che ci siamo regalati e abbiamo regalato due belle serate. Quella serata della partita con l'Entella è quella di domani. Ci siamo regalati e l'abbiamo regalato ai nostri tifosi perché sappiamo quanto ci tenevano. Conosciamo le difficoltà della partita di domani, sarà una partita impegnativa, quindi per questo bisognerà mettere più impegno. La cosa che mi interessa di più e che ci interessa a noi come squadra è dimostrare quello che siamo, il nostro valore. Sicuramente sono mai partite dove stai al 100%, però devi stare al 100% dal punto di vista mentale. Se puoi dare 7-8% dal punto di vista fisico in questo periodo, devi dare il 100% o il 10% dal punto di vista mentale. Quella è la cosa più importante perché se vuoi costruire una mentalità forte, passa anche attraverso queste partite dove l'impegno è alto e dove ci devi mettere sicuramente più impegno delle altre gare. Sulla carta sarà Davide contro Corriere perché è una squadra arrivata nona in A contro una squadra di C. Strategicamente sul campo come si riduce questo gap a livello di strategia di gara? Devi cercare di fare una partita con coraggio e con personalità, cercare di far emergere le tue qualità di squadra e cercare di limitare al minimo le loro qualità che sono tante. Come dicevi tu, è una squadra che l'anno scorso è arrivata non in classifica, rispetto a tante altre squadre magari più blasonate. Stanno continuando a costruire una squadra per migliorare anche il risultato della passata stagione, quindi è normale che l'impegno sarà elevato. Però noi vogliamo dimostrare il nostro valore, confrontarci contro una realtà sicuramente di livello superiore e uscire dalla gara sempre con più certezze che ci potrebbero servire, che ci potranno servire per l'inizio del campionato, dove noi vogliamo essere pronti. Questo cesena inizi già a sentirlo tuo? Ma sì, per quello che si è visto in questo inizio è cambiato ben poco dal punto di vista dell'identità del gruppo, che è la cosa che mi interessa di più. L'inserimento dei nuovi è fondamentale, ad oggi si stanno inserendo molto bene, in un gruppo già consolidato, coeso. I nuovi arrivati sembra che dalla passata stagione che sono con noi, si sono integrati e stanno seguendo il modo di pensare di questo gruppo, è quella la cosa più importante. E' normale che c'è da lavorare tanto, c'è da crescere, da migliorare alcune cose, però la predisposizione, ripeto, l'essere presente dal punto di vista mentale deve essere la nostra priorità in questo momento. Mister, buongiorno. Rispetto alla gara con Entella ha un attaccante in più, cioè Ogunseye. Come sta fisicamente e cosa può dare di più rispetto agli altri attaccanti in questo reparto offensivo? Ogunseye è due giorni che si è allenato con noi. Si è allenato fino adesso non in modo attivo, ma si è allenato in modo individuale, quindi ci vorrà un po' di tempo per portarlo a livello degli altri. Ha una struttura importante, però la cosa che mi fa besperare è che è un ragazzo che ha una volontà di mettersi a disposizione, di lavorare, che ci aiuterà nel suo percorso di avvicinamento al campionato. Poi vediamo se domani ci sarà la possibilità di mettergli qualche minuto nelle gambe, come anche a Saber e Corazza, che sono quei calciatori che hanno meno minuti nelle gambe rispetto agli altri, per gli acciati che ci hanno avuto. Insomma, questa partita servirà anche per questo. Dunque, Saber e Corazza sono disponibili. Quindi fin dall'inizio potrebbero esserci. Sono disponibili, sì. Inoltre, in tutto sommato... In tutto sommato procede bene. Ma come sta invece? Ieri ha fatto il primo allenamento con la squadra. È normale che due mesi senza essere nel gruppo e allenandosi a parte avrà bisogno anche lui di un po' di tempo per essere al 100% disponibile. In ritiro dicesti che quest'anno vuole una squadra un po' più fisica, un po' più strutturata. Qualche centimetro in più. Ecco, un 6 ti dà qualche centimetro, forse, e qualche chilo, ma non perché sia grosso, perché proprio tiene botta, è un giocatore che poi ti fa salire, eccetera. Quindi ti manca qualcosa a centrocampo, strutturato? Un giocatore strutturato? Se io riuscissimo a trovare le caratteristiche giuste che ci servono e anche strutturato sarebbe la migliore soluzione. Però poi il mercato ti presenta delle situazioni che magari devi cercare di pesare, cosa ti può dare e cosa puoi rinunciare. Vedremo cosa ci presenterà il mercato. Di Diago Motta, come allenatore, cosa pensi? Io credo che sia un allenatore con delle idee importanti, delle idee innovative. Ogni anno scorso forse è stata una delle squadre che ha espresso il gioco più entusiasmante dopo il Napoli e qualche altra realtà dal punto di vista offensivo. dal punto di vista del coraggio, dal punto di vista dell'identità di gioco. Sì, allora con l'interno avete fatto un gran bel primo tempo, un primo tempo di buon livello. Secondo tempo un po' meno, un po' più in affanno. Ecco, come li vedi adesso, e la seconda domanda, qual è l'obiettivo primario? Cominciare a dare minutaggio a quello che potrebbe essere un'ipotesi di squadra tipo o che? Noi abbiamo fatto, credo, ripetendo la partita, 55-60 minuti di buon livello. Poi in normale ci sia stata una doppia versione di gara, dove i primi 60 minuti, secondo me, abbiamo fatto una partita di grande livello. Contro una squadra forte, già quasi al completo, con dei ricambi che nell'arco della partita potevano cambiare il ritmo, il loro ritmo. E l'hanno fatto. Noi dobbiamo crescere dal punto di vista della resistenza mentale. Io dico sempre, partite facili o momenti durante la partita dove la fatica non la devi sentire. Anche a questo punto del campionato, dove ancora non hai tanti minuti nelle gambe, con partite di livello, la testa ti deve dire che la fatica non esiste. Devi andare oltre. Secondo me siamo pronti per andare oltre. Stiamo lavorando su questo punto di vista. Io faccio un calcolo matematico. Poi ci do il destino. Poi Paolo e Ferrante hanno perso altri sei. E ne hai messi una decina, che sono quelli di ogni sede l'anno scorso. Ti serve ancora qualcosa di davanti? Ti serve più un giocatore di qualità o un giocatore da gol? Guarda, i numeri io do poca importanza. Però li prendo quando ce n'è bisogno. Nei persi tre comunque è arrivato uno. Sì, ma anche questo abbiamo fatto lo stesso ragionamento l'anno scorso con i nuovi acquisti che avevamo fatto. Pensavamo di aver acquistato quei gol che avevamo fatto l'anno precedente. Io credo che ogni anno abbia una sua storia. Ci sono contesti diversi, dinamiche diverse. Io mi auguro e sono convinto che le scelte che abbiamo fatto porteranno quei gol o quelle prestazioni che servono al Cesena. Poi ci sono annate che magari fai 20 gol in meno e arrivi primo. L'anno scorso è stato il migliore attacco e magari sei arrivato secondo. Importante che quello che costruiremo servirà per continuare ad essere competitivi come l'anno scorso. Allora, visto che si stava parlando di un trequartista come Mostica, differenti caratteristiche. Cioè è un giocatore che ti stuzzica? Stiamo cercando un... Un po' cercato anche l'anno scorso gennaio. Un calciatore che per caratteristiche, possa avere qualcosa di diverso rispetto ai calciatori che abbiamo oggi in organico. Che hanno fatto, secondo me, stanno facendo bene come Berti, come Saber, come Bumbu. Che in quel ruolo possono e hanno giocato. Però vogliamo inserire, fare la scelta giusta, un calciatore che ci possa dare qualcosa in più dal punto di vista dell'uno contro uno, dal punto di vista realizzativo, dal punto di vista dell'imprevedibilità. Però dobbiamo fare la scelta giusta perché noi dobbiamo far poco in questa squadra. Quel poco che dobbiamo fare, dobbiamo fare le cose giuste e quelle che servono. Andando con calma, perché è un ragazzino del 2005, però il percorso di Giovannini potrà diventare in futuro un giocatore anche di questo tipo qui? Come il trequartista che sembrava nell'uno contro uno. Si parla tanto di giovani. Io non li considero giovani. Sono calciatori che devono giocare a calcio e farlo bene per le loro qualità. Giovannini è uno che ci ha dimostrato di avere qualità, come ha dimostrato Cristian, Steven nella passata stagione, Francesconi che non ne ha fatto una buona gara con Lentella, Berti. Io non li considero giovani. Sono dei calciatori che devono giocare bene. Dei calciatori che devono, per le loro qualità, mettere a disposizione della squadra le loro qualità. E' normale che il loro percorso, se vogliono e devono essere determinanti, nei momenti in cui sono chiamati in causa, deve essere più veloce possibile. Per questo io non li considero giovani, perché il tempo cambia le cose. una cosa come Steven lo è diventato subito determinante. Loro devono lavorare per diventare determinanti subito. Grazie.